Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, questa volta non siamo su TG Brawl Stars perché dobbiamo fare l'opening Abbiamo un pochino di casse da aprire, dobbiamo trovare il nuovo brawler che è già disponibile nelle casse Lo possiamo trovare qui sotto, ecco il mitico, anzi la nostra mitica Jaki che se vogliamo prima l'andiamo a vedere Perché l'abbiamo già vista in passato ma adesso si può vedere veramente in gioco di Mordughino Quindi andiamo a fare la cosa più divertente di questo personaggio Andiamo direttamente sui robottini, ragazzi non dimenticate di mettervi like sopra al video, condividerlo Vai così, spam, spam e distruggiamo tutti, devasto Ok, andiamo a fare il nostro opening, l'avremo trovato sicuramente, voi lo sapete a questo punto Vai, apriamo le più piccole, partiamo dalle piccole, così troviamo anche i gadget perché è da trovare anche i gadget Vai, tordini, cominciamo male Apertura, monete, cominciamo male Dai, monete, cominciamo male Ti prosegue, altre tante monete Ok, sono pieno di monete, questo l'abbiamo capito Le monete ci piacciono ma forse sono un po' tante Ok Qualcosina per noi, a parte le monete Sto trovando tantissime monete, adesso faccio il potenziamento della vita di tutti i brawler rimasti Ok, monete Il opening più bello del mondo, tutte monete Eppure tante monete, siamo già mille Ok, ci piace Soldini Sto prendendo tutte le casse, non trovo niente Mi sento sfortunato in questo momento Ok Acceleriamo l'apertura perché le cassine piccole Ok, soldini, basta Ci ha messo un po' a caricare, mi ha spaventato Guardate che bello il bel raviolone intanto, che c'ha anche la fascetta sulla testa Ho tantissimi soldi ragazzi, sono ricchissimo Nello stesso momento non ho niente Bene Speriamo di trovare qualche cosa Se no lo dovremmo shoppare in seguito Oh Che cos'è? Un più 200 che non ci dispiace Ok, monetine Soldini Monetine Il gesto opening è più tardo e più vuoto della vita Monete Tutte monete La mega cassa ce la lasciamo per ultima raga Assolutamente Ok Tutti i soldi Tanti soldini Ok Proseguiamo veloci Ti hai capito Vai Tutte monete Ok Oh, qualcosa Tre gemme Vai Monete Mi sento quasi triste in questo momento Non sto riuscendo a trovare un super raro Raga Mi sento povero nel cuore Ho finito le casse normali Vado a prendere la cassa gratuita qui Eccolo Nella cassa gratuita Che fortuna E adesso giustamente Andiamo ad aprirci tutte le casse che abbiamo qui Per prendere i potenziamenti Perché li prenderò tutti i suoi Perché io ce l'ho tutti Perfetto Vai così Vai così Tutti i punti per lei E il più 200 Così farmeremo tantissimo Vai Che la facciamo salire Tre gemme Perfetto Ottimo Raga Prendiamoci tutto il carico di giacchi Così la facciamo salire il prima possibile Quanto ci piace sta cosa Vai Tutti i potenziamenti Altre tre gemme Benissimo Altro più 200 Non abbiamo trovato ancora neanche un gadget Però eh Un altro più 200 Ok Abbiamo tutto quello per farmare E tanta roba per giacchi O gechi Eccola No abilità stellari di block Mi mancava ancora abilità stellari di block Perfetto Bella giacchi Ciao foo Gentilissimi Altre cinque gemme Perfetto 75 in totale Cassa grande Bam Monede Punti di giacchi Giacchi Come la volete chiamare E tre gemme Devo dire che le gemme Non mi sono dispiaciute oggi Per poco non arrivavo agli 80 Che mi servono Allora Io potrei dire che Andiamo a vedere intanto il brawler Dov'è la mitica Dov'è la mitica E andiamocela anche a potenzialare A sto punto Dai Ce l'abbiamo un po' di soldini A quanto arriveremo con una botta sola Perfetto Livello 4 Livello 5 Livello 6 Livello 7 Wow regà Siamo già a livello 8 A prima botta Appena uscita Ottima sta cosa Allora ragazzi Questo è il personaggio nuovo Sono riuscito a trovarlo Abbiamo fatto il nostro mitico chest opening Non ho trovato neanche un gadget Sfortunello Riammi le like Condividete il video Iscrivetevi al canale E se no Lascia il hashtag Brostars Con sotto i commenti Vi riceverò un cuoricino E ci vediamo nel prossimo video E ci vediamo nel prossimo video Grazie a tutti.